Giornata del canottaggio per tutti, un'esperienza che viene ripetuta anche quest'anno a Chiavari, una grande soddisfazione per una partecipazione sempre più importante. Sì, è stata una bellissima manifestazione, la tredicesima che organizziamo. Avevamo 82 partecipanti che venivano da tutte le parti d'Italia. Quest'anno anche il Lago di Como e il Lago Maggiore si sono uniti per partecipare a questa manifestazione. Siamo riusciti a portare in mare tutti i ragazzi, sia con le imbarcazioni della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso L'Eppi, le imbarcazioni a vela dedicate ai disabili. Siamo riusciti a non uscire in mare ma perlomeno a ministrarle in funzionamento con un esperto velista. Canottaggio per tutti significa la volontà della Lega Navale di Chiavari-Lavagna di aprirsi a normodotati e disabili, a tutti coloro che amano lo sport. Sì, certo. Noi siamo anche favoriti come Chiavari perché è da poco stata inaugurata un pontile galeggiante utilizzabile per i disabili. È stato molto utile ieri per poter mettere in mare questi ragazzi qua. Speriamo di sfruttare queste strutture anche in altre giornate senza aspettare questa manifestazione annuale. Oggi, insomma, a fortuna non vi ha sorriso per la regata interregionale Iole d'Elba. No, oggi avevamo superato tutti i problemi burocratici, organizzativi e vari. Eravamo pronti a prendere il mare ma il mare non ci è stato favorevole. Le nostre imbarcazioni, anche riducendo il percorso, la sicurezza non è assicurata, anche con tutte le barche appoggio che possiamo mettere. Quindi siamo costretti a rinviare una data da stabilire. Un peccato perché c'era un'affluenza notevole, 129 equipaggi. Non è un numero molto normale per le nostre gare, però cercheremo di fare in seguito. Tra le prossime iniziative della Lega Navale di Chiavari-Lavagna, a inizio maggio, ci sarà Gente di Mare? Sì, Gente di Mare è una giornata dedicata ai ragazzi delle scuole. Si svolgerà anche questa qui nell'ambito portuale, con tutti gli stand, degli sport del mare, delle attività legate al mare e con le prove, con imbarcazioni anche in quel caso lì. Poi per il 30 di aprile organizzeremo una regata laser, qua giù sempre a Chiavari.